Favia, ma a voi una cosa si dice, va bene, è chiaro, voi avete moltissime ragioni per protestare, ma almeno il pagamento degli affitti, se è stato bloccato, l'azzeramento delle bollette, ce l'avete la possibilità di non pagare le bollette? No, ma il problema è questo... Quali sonico, perché con la cassa integrazione, non pagare le bollette, non pagare l'affitto, già sarebbe, diciamo, una rete di protezione. Questo è effettivo oppure no? Allora, sulle chiusure ci sono stati figli e figliastri, perché io posso entrare in un luogo al chiuso e comprare delle arance e non posso in un mercato all'aperto comprare un paio di jeans. Non si capisce, ad esempio. Oggi potremmo stare nei dehors all'aria aperta, in sicurezza potrebbero lavorare i ristoranti, ma delle due luna, se punisci noi per fermare un po' il movimento, come di fatto ha detto Grisanti, perché non ci sono focolai nelle mensa aziendali o negli autogrill, se vuoi punire noi per fermare la movida, allora ci devi permettere di non fallire. Perché se tu sei uno Stato cialtrone che fa lo scostamento di bilancio a dicembre e gennaio e a noi oggi, io ho controllato il conto corrente oggi, non sono ancora arrivati gli aiuti dell'anno scorso, allora sei uno Stato cialtrone che sta immandando al massacro 300-400 mila aziende e l'effetto domino sarà su tutta l'Italia. Abbiamo il peggior danno sanitario, peggior danno psicologico e sociale e peggior danno economico. Scusa un secondo, un attimo. Per dati per aiutarti, anche nel ragionamento. Prima hai detto di aspettare le vaccinazioni sugli anziani. Qui non avete capito che non c'è più tempo. Noi il 12 torniamo in piazza, il 13 siamo di nuovo in piazza e se noi siamo stati pronti a prenderci da uno a sei anni di carcere col blocco in autostrada e se dei padri di famiglia, delle donne, sono andate a fronteggiarsi con la polizia che era in grosso imbarazzo, tra parentesi, vuol dire che non abbiamo più niente da perdere. E bisogna fare attenzione perché prima o poi il palazzo si trova gandianamente circondato. Perché noi non abbiamo più niente da perdere.